Matrimonio in vista per Grimaldi e Francesca Chillemi. Da Gospia parla chiaro, i due sono stati visti in questo modo Un nuovo scoop di Da Gospia è arrivato a mescolare le acque e a far drizzare le orecchie di tutti gli amanti della cronaca rosa Il gossip, che pare essere molto più di un solo gossip, parla molto chiaro, Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi potrebbero essere vicini, alle nozze Ma cosa c'è di vero? Cosa ha visto Da Gospia? I rumors si rincorrono sul web, e le voci di corridoio non parlano d'altro Cosa sta davvero accadendo tra i due VIP? Che la loro storia andasse a gonfie e vele, il pubblico lo aveva già capito dalla riservatezza con cui i due stanno gestendo il tutto Non una foto insieme su Instagram, ma tanti avvistamenti e paparazzata ovunque Lei, superattrice e modella, lui ricco armatore, figlio del fondatore della Grimaldi e rampollo della nota influente famiglia napoletana, che sia amore vero tra loro? Tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi è amore vero? Alcuni fan ne sospettano possibili nozze per un motivo preciso, Francesca Chillemi pare aver già conosciuto la madre di Eugenio Grimaldi, ha rivelato Da Gospia, quella che potrebbe dunque diventare la sua futura suocera Un incontro ufficiale nella bella e lussuosa villa di Capri appartenente alla famiglia Grimaldi, un incontro che non è di certo passato inosservato agli occhi degli amanti del gossip, che non hanno perso tempo nel fare speculazioni di ogni genere Finita la relazione con Stefano Rosso, la Chillemi pare essersi innamorata di Grimaldi, rampollo della ricca famiglia proprietaria di alcune delle navi da crociera più famose in Italia Dopo aver conosciuto la famiglia, il prossimo passo è il matrimonio? Per il momento si possono solo fare supposizioni, dal momento che da nessuna delle due parti è arrivata alcuna conferma ufficiale Ma che tra i due ci sia un sentimento serio, a questo punto, per molti appare chiaro Se questo sentimento porterà o meno all'altare, solo il tempo potrà dirlo Da Gospia ha lanciato una bomba che ormai non può più tornare indietro e il gossip è infuocato su tutte le piattaforme La storia d'amore tra il super rampollo Grimaldi e l'attrice pare proprio andare verso un'ufficializzazione, ma per sapere di più Non resta che aspettare notizie da una o dall'altra parte